Chi ci separerà dal suo amore? Cari amici benvenuti alla nostra catechesi con il nostro libro La sorte delle anime nei giorni della grande tribolazione. Stiamo facendo il capitolo quarto, il cui titolo è Le anime nel turbine dell'impostura anticristica. Cioè praticamente cosa avviene delle anime in questo tempo in cui gran parte della nostra società ha abbandonato la fede di fatto e come ci ha detto la Madonna siete diventati pagani e ci ha detto siete persi. E cari amici questa è la situazione delle anime per cui questa è la vera e grande preoccupazione della Madonna. Cioè noi siamo preoccupati per la vita del corpo, siamo preoccupati per come va l'economia, per come va il lavoro. Insomma siamo preoccupati per i problemi temporali, mentre abbiamo completamente rimosso i problemi spirituali, i problemi morali, i problemi del senso della vita e di come impostarla, quali valori eccetera. Allora questo è anche un tempo in cui, come ci ha detto la Madonna, nel messaggio del 25 luglio del 2020, in questo tempo agitato, Satana miete le anime per attirarle a sé. Allora vediamo questo che è sicuramente una realtà che noi possiamo anche toccare con mano se guardiamo come la gente vive e soprattutto come la gente muore. Cioè vive ignorando Dio e muore senza preghiera, pensando che con la morte finisce tutto. Questo è il motivo per cui Satana miete le anime per attirarle a sé, cioè portarle con sé all'inferno. Vediamo allora, siamo a pagina 115 e come è il nostro metodo leggiamo e commentiamo. Caro amico, la grandezza dell'uomo è la sua anima. Non c'è dubbio. Che ne riflette la divina immagine ed è per questo capace di conoscere e amare il suo creatore, fino a diventare sua dimora. Cioè noi non solo possiamo capace di conoscere e amare Dio, ma di accoglierlo nella nostra vita e nel nostro cuore, in modo tale che l'anima sia il Tempio della Santissima Trinità. Ti sei mai chiesto perché l'angelo ribelle e con lui le schieri degli angeli apostati sia instancabile nel sedurre l'uomo e nel trascinarlo sulla via della rovina? Come dice la Madonna, Satana non dorme. Perché? Che cosa vuole Satana da noi? Che cosa spera di ottenere seminando insidie lungo tutto il corso della nostra vita? Si dà da fare, non fa neanche le ferie, per quale motivo? L'ingannatore non vuole ciò che possediamo come farebbe qualsiasi ladro. Cioè al diavolo non importa il nostro conto in banca. Anzi, se può te lo rimpolpa, purché tu passi dalla sua parte. Neppure al diavolo importi il nostro corpo, che a noi sta molto a cuore, ma che è destinato a diventare polvere. Il diavolo vuole la nostra anima. Ciò che di più prezioso abbiamo e siamo. Quindi tutte le inganni, le insidie, eccetera, eccetera, il diavolo rivolge a noi, è per conquistare la nostra anima. Ma, come diceva Caterina D'Assiena, non può se noi non vogliamo. È questa la nostra forza. Per conquistare non si riposa e non dorme. Come ci ammonisce la regina dalla pace. Fin dal momento della creazione della prima copia, l'angelo ribelle ha sfidato Dio nel tentativo di trascinare l'umanità dalla sua parte. La sua perfidia ha individuato nella libertà, grazie alla quale il creatore poteva elevare la sua creatura a un rapporto di amicizia, in essa, cioè nella libertà, ha visto il punto critico su cui operare per ottenere il suo scopo. Cioè, il diavolo ha detto, questi sono liberi di dire sì o dire no. Adesso io devo trovare il modo di far sì che dicano sì. E qual è il modo? Quello di presentare il male sotto colore di bene. Astutissimo. Satra vi distrugge con quello che vi offre, ha detto la Madonna. Da allora, fino alla fine della storia della salvezza, è in atto la guerra dall'impero delle tenebre per sottrarre le anime al regno di Dio e per spingere l'abisso dell'odio della morte. È a caccia di anime con l'inganno. Per ogni anima che riesce a conquistare, il maligno brinda vittoria, perché sa che una volta che è entrata in suo potere, cioè che è andata all'inferno, sarà sua per sempre. Come ha detto la Madonna, le anime perdute non possono più uscire, ma non vogliono più uscire. Si identificano con l'inferno e non vogliono più andare via da esso. Rifletti, caro amico, sul dolore dell'Onnipotente, che si vede strappare una sua cariatura immensamente amata, perché è essa a volerlo e a rifiutare tutti i mezzi di grazia che le vengono offerti per giungere alla salvezza. La storia umana, fin dalle origini, è contrassenata da questa tragedia immane, che non riguarda tanto l'uomo nella sua dimensione terrena, esposta all'intemperia e alle violenze della vita, quanto nella sua realtà spirituale e soprannaturale. Cioè la tragedia della storia umana è che l'uomo è passato dalla parte del diavolo. Chi potrebbe incontrare la moltitudine di anime che l'amore di Dio ha creato e crea per la loro felicità, ma che si perdono a causa della presunzione di fare a meno di Dio cadendo nelle spire del serpente antico? Cioè il dolore di Dio è immane. Ogni anima è unica e irripetibile e ognuno e ognuna nel tempo della vita è chiamata a decidere del suo destino eterno accogliendo l'amore di Dio o rifiutandolo, consegnando così se stessa alla morte spirituale. Per ogni anima che si converte e si salva, in cielo si fa festa. Per ogni anima che si perde nel peccato, la Madonna ci confida che il suo cuore versa lacrime di sangue. In una visione soprannaturale della storia umana, ciò che veramente conta è il numero delle anime che si salvano o si perdono. Nessuno di noi è in grado di conoscere quanti e quali sono i cittadini del cielo. L'Apocalisse dice che sono una moltitudine immensa. Ma non sappiamo neanche quanti sono coloro che sono precipitati nelle tenebre infernali. Però ce lo dice la Madonna nelle liberazioni di Fatima e di Međugorje e tante altre, che molti vanno all'inferno. Ogni anima viene creata dall'Onnipotente in vista della sua felicità eterna nella comunione di amore per le tre persone divine. Quindi nessuno è predestinato all'inferno. Tutti sono predestinati in paradiso, eccetto quelli che rifiutano, fino all'ultimo istante di essere salvati. Ogni anima che viene creata viene concessa la grazia necessaria per la salvezza. Viene dato il perdono dei peccati per quanto gravi possono essere. Cioè, all'inferno si va non perché manchi la misericordia di Dio, ma perché noi la rifiutiamo. Per tutte le anime che Dio ha tratto da nulla, collocandole al vertice della creazione, il Figlio di Dio ha versato il suo sangue sulla croce perché fossero aperte le porte del paradiso. Anche per l'Iterer, per dire, Gesù ha versato il suo sangue perché fosse salvato. La tragedia per cui un'anima decide di orientarsi verso l'abisso della perdizione è da riportare quindi al mistero della libertà, dono inestimabile di grandezza, senza il quale l'uomo sarebbe più tale. Cioè, Dio è chiaro che creandoci liberi ha rischiato di perderci. Il tentatore sa che la libera volontà di cui l'anima è dotata è attraversata nel suo profondo da un desiderio di bene e di felicità che la orienta nelle sue decisioni. Cioè, per dire, ma il diavolo sa che la nostra libera volontà è un appetitus boni, cioè è un desiderio di bene. Cioè, la nostra libera volontà ha dentro di sé un desiderio di bene. Lui ti presenta un bene falso per catturarti, come fa il pescatore che presenta l'esca con su il vermiciatolo per catturare il pesce. Ecco, la benità del tentatore e il suo indiscutibile successo fin dalle origini consiste nel presentare ciò che nuoce all'uomo come un bene che lo rende felice. Cioè, ti propone il male colorato di bene. Satana vi distrugge con quello che vi offre. Ha ammolito la regina della pace. Quindi, mentre Dio attira le anime con la luce della verità e la sovietà dell'amore, il seduttore le cattura e le imprigiona con le false felicità che provocano l'amore. Cioè, perfino il Buddha aveva capito questo quando diceva paravorava gli uomini alle zanzare che si gettono sulla luce che le brucia. Ecco, la falsa luce che ci brucia. Cari amici, il tragitto della vita è personatura drammatico ed è contrassegnato da due percorsi fra i loro opposti. Sono due le strade della vita, quella del bene e quella del male. Uno di questi sentieri è erto e stretto e porta alle altezze del cielo. L'altro è una strada ampia e invitante che scivola verso l'abisso. Cioè, Saddam accostisce autostrade che portano all'inferno. Non c'è limite di velocità, non c'è limite di velocità per le autostrade che portano all'inferno. Ciò che caratterizza l'attuale momento storico è senza dubbio la moltitudine sconfinata che affolla la via della rovina come è avvenuto nella storia di Biblia e l'aria della Chiesa. Tu vedi tutto ciò che è vano, che è effimero che spinge al peccato corrono corrono, corrono sulla via aerte e stretta che porta in cielo pochi pochi va bene che molti poi dal purgatore vanno in paradiso. insomma, la verità è che sulla via, tu immagini, stai meglio sull'autostrada a camminare a piedi o su un sentiero che ti porta alla vetta ma stai meglio sul sentiero che porta alla vetta. Cioè la via del paradiso è più felice, è felice. Ha ragione Paolo VI quando diceva il cristianesimo non è facile ma è felice. La via dell'inferno è facile ma è disperata. ciò che caratterizza l'attuale momento storico è senza dubbio la moltitudine sconfinata che affolla la via della rovina come mai è avvenuto nella storia bimillenaria della Chiesa. Tu guarda il sabato e la domenica i giorni che Dio ci ha donato per lodarlo, ringraziarlo, servirlo, pregare sono usati esclusivamente quasi esclusivamente per il divertimento che è un divertimento che ti svuote il portafoglio e ti lascia la bocca amara. Io l'ho perso così e penso ad avere ragione Ritorna dunque con la tua memoria al mondo come erano i primi anni del dopoguerra 1940 presente quando la fede del popolo era viva e le Chiese erano affollate e fai un confronto con la situazione attuale contrassegnata dall'ateismo e dal materialismo di massa che ha eliminato ogni prospettiva soprannaturale della vita ridotta alla conservazione di un corpo per il mestrato alla morte cos'è la vita? la vita è quella fatica immane per tenere vivo un cadavere che è il nostro corpo perché se l'anima è morta credetemi se l'anima è morta il corpo puzza comunque l'accegamento progressivo di una società votata al consumismo ha portato così all'obbligo della dimensione spirituale dell'uomo ridotto a un fenomeno della natura mi veniva in mente conoscerono questi virologi una virologa che voleva essere interessante e dice ma in fondo noi siamo degli animali scriveva io mi sono detto lo sarà lei signore un animale io sono un figlio di Dio me lo sono detto fra me e me ma mi è rimasta di traverso questa cosa dunque in fondo noi siamo degli animali no di tu che sei un animale perché devi dire che sono un animale anch'io l'accegamento progressivo di una società votata al consumismo ha portato all'obbligo della dimensione spirituale dell'uomo ridotto a un fenomeno della natura e all'eliminazione della prospettiva ultraterrena che ha contrassegnato tutte le civiltà conosciute la negazione dell'anima è la vittoria del diavolo oggi il suo inganno più grande e la presentano pure come un ritrovato della scienza oggi parole come anima ed eternità ai più appaiono vuote e prive di significato la cultura di massa alimentata dai mass media le abbandite dal proprio vocabolario come inutili e forvianti e chi parla di anima e di eternità mi guardano e sorridono padre Livio si aggiorni io dico ci vedremo a giudizio universale vediamo da che parte stiamo io e lei eppure nulla è più importante dell'anima e dell'eternità per una visione della vita che abbia un senso una prospettiva che non sia quella della tomba scusi la sua prospettiva qual è? la mia prospettiva è il paradiso la sua qual è? è una tomba che tra l'altro costa anche cara se no potrebbe essere un carro funebre diciamo così di seconda o di terza qualità non si sa potreste anche finire come lo vediamo potremmo finire come come si sono trovati tanti civili nel tempo dell'operazione speciale di sua maestà rinchiusa nel limite oscuro del tempo che passa la generazione che ha rifiutato la salvozza cristiana si afferra all'effimolo per stare a galla e dare un senso al suo vivere al suo faticare al suo soffrire cioè praticamente se non c'è Dio non c'è eternità non c'è anima a cosa serve la vita? se finiamo tutti in una tomba perché dovremmo vivere lavorare soffrire faticare pagare le tasse essere perseguitati perché se poi finisce tutto così non vi sembra deprimente? io a chi la pensa così proporrei il TSO sto premendo in giro quel professore che ha scritto professorone anzi che ha scritto che per quelli che credono a Međugorje io voglio il TSO ma è tutto inutile perché i castelli di carta costruiti sulla presunzione sulla menzogna cadono inevitabilmente e tragicamente cioè è prossimo il tempo in cui attraverso gli eventi dei segreti a quintali a tonnellate cadranno le squame dagli occhi ogni morte senza la prospettiva dell'eternità è contrassegnata dalla sconfitta e dalla disperazione che ribollono nei cuori inaciditi e rancorosi insomma detto in parole povere prendiamo atto che il diavolo ci ha ingannato ci ha rubato Dio l'eternità l'anima i comandamenti tutto ma andiamolo a farsi benedire il diavolo così quando viene benedetto fuma e noi ritorniamo a Dio la falsa luce della nuova religione dell'uomo la felicità dei piaceri materiali la falsa sicurezza delle conquiste della scienza e della tecnica la falsa pace di armi terrificanti cercano in vano di coprire la situazione di un mondo acceccato dalla superbia agitato dall'odio e dalla paura rinchiuso nel suo livore di conto Cristo e deciso di andare sino in fondo sulla via dell'impenitenza sono duri non si convertono c'è stato il covid c'è stato il tempo di guerra ma lì sono lì che covano i loro progetti di superuomo cosa si può fare? ora comprendi perché la regina della pace abbia rivelato la situazione di massimo pericolo che l'umanità corre in quanto il maligno assolto dalle catene si impadronisce di innumerevoli anime l'espressione satana miete le anime ci riporta ai campi di grano dove le spighe vengono tagliate e i covoni riposti in granaio quante saranno le anime che si salvano e quelle che si perdono in questo tempo in cui il mietitore infernale la fa da padrone questa è l'angoscia della Madonna e deve essere anche la nostra angoscia specialmente per i nostri cari che vivono senza Dio e senza comandamenti quanti sono coloro che morono nella prospettiva dell'eternità e con il cuore aperto al pentimento e all'accoglienza della divina misericordia l'impeditenza globale profetizzata da San Giovanni Paolo II per la nostra generazione è una realtà che abbiamo davanti agli occhi ma che non sembra preoccupare nessuno scusate avete mai sentito voi qualche parroco io sento le prediche al mattino le sento sempre perché sono in macchina in quel momento sto venendo in sede io di prediche sono preoccupati per la salvezza delle armi lo sento quasi nessuno non offendetevi con fratelli lo dico con amore cioè io vedo che la Madonna Gesù e Maria siamo i sacri cuori di Gesù e di Maria il cuore di Gesù il corato di spine il cuore di Maria trapassato da una spada perché? per le anime che si perdono quindi come diceva San Giovanni Paolo II il pericolo dell'impeditenza globale cioè la morte nell'apostasia nel rifiuto di Cristo ha preso il sopravvento nei paesi di antica cristianità e questa dovrebbe essere la preoccupazione primaria della Chiesa che Gesù Cristo ha fondato perché la grazia della redenzione venisse distribuita alle anime affamate e assetate adesso mi rivolgo all'ipotetico interlocutore c'è un cristiano del nostro tempo che è corso dietro la nuova era e lo invito tu che hai seguito l'onda dell'apostasia galoppante che prometteva un nuovo umanesimo capace di riscattare di elevare la condizione umana sforzati di aprire gli occhi in modo da vedere la tua reale situazione di estremo pericolo satana ti tiene al guinzaglio stai attento ricordati che Dio esiste nonostante il tuo diniego tu hai da dire che il sole non c'è tanto c'è lo stesso e così è Dio che esiste nonostante il tuo diniego come pure la tua anima che esiste anche se tu non te ne prendi cura che tu hai soffocato sotto la coltre della superbia dell'effimero ma sei ancora in tempo per il momento a inginocchiarti davanti alla croce e a chiedere la grazia dell'umiltà e il perdono dei peccati solo Dio concede la vita eterna ed è a Lui che devi chiederla lasciando che i morti seppelliscano i morti ricordati che arriva il momento in cui vai davanti a Dio manda a quel paese tutti i legami umani e anche tu come famoso Abate Alonio devi dire io e Dio in questo momento siamo soli al mondo e devi dire a Dio Signore dal profondo grido a Te ascolta la mia voce perdoni i miei peccati prendimi con Te questo va fatto questo è tanto semplice ci vuole un po' di umiltà ci vuole la preghiera coraggio cari amici perché poi i momenti tribolati non so se avremo la lucidità la calma per pregare o invece il panico prenderà il sopravvento è adesso che dobbiamo convertirci siamo ancora nel tempo pasquale facciamo la confezione pasquale la Madonna allunga allunga questi 40 anni ancora allunga allunga perché vuol salvare il maggior numero possibile di anime e noi cari amici che crediamo aiutiamola con le nostre preghiere i nostri sacrifici coraggio coraggio cari amici chi salva la propria anima chi salva un'anima ha salvato la sua coraggio minuto il ho c'è